Prende avvio la quinta edizione di Chiacchiere in piazza, un'iniziativa che prevede un ciclo di tre incontri in biblioteca nei mesi di maggio e giugno. Gli appuntamenti, incentrati sullo scenario bellunese, comprenderanno prima una conversazione storico-artistica, seguita da una cena in piedi e infine una visita delle principali piazze nel centro storico. Questa iniziativa comprende un abbinamento interessante tra due aspetti importanti della nostra cultura. Gli aspetti che riguardano la società e la vita storico-artistica della città di Belluno e l'aspetto gastronomico che si abbina perfettamente a questi elementi. Abbiamo dal 2016 organizzato una serie di cene in biblioteca proprio per attrarre quel pubblico che magari era meno interessato alla parte culturale tout court e quindi poteva essere un elemento in più per fare venire in biblioteca persone diverse da quelle che già la frequentano. Questa quinta edizione delle cene in biblioteca si compone come sempre, come standard, dalla conversazione storico-artistica che faremo alle 7.30. Segue poi una cena in piedi curata dallo chef Mauro Cavallette e poi faremo una visita notturna in città. Come in tutte le edizioni che abbiamo fatto, verrà allestito all'interno della biblioteca, a fine conferenza un piccolo rinfresco, si andranno dagli assaggini, dagli aperitivi freddi ad aperitivi caldi, a una pietanza forte e portante. Di solito un primo piatto che richiama un po' il tema della serata. Quest'anno parlando della piazza Re Erbe sarà qualcosa a base con le erbe, parlando della piazza Campedello o il canton della Pelagra sarà qualcosa a tema polenta, su piazza del Duomo parlando un po' di Venezia, un po' la piazza Nobili di Belluno e così, ma oltremmo qualcosa a base di pesce. Grazie.